Aumento della pedonalizzazione anche per fare sempre maggiore spazio ai mezzi di mobilità alternativi, ZTL che si estende sempre di più e parte ora anche la sfida dei quartieri spagnoli, installazione di nuovi varchi telematici per liberare risorse della pulizia municipale e rafforzare i controlli. Sono solo alcune delle novità contenute nel piano definitivo presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Per arrivare al provvedimento che entrerà in vigore fra quattro mesi è stato seguito un percorso partecipato durato 90 giorni durante il quale sono state esaminate proposte suggerimenti e valutazioni giunte oltre che dalle municipalità interessate anche da associazioni, comitati, consorsi, autorimesse, guide turistiche e taxi e molte di esse sono state recepite come il diverso posizionamento di alcuni varchi telematici, il nuovo disegno dell'area di Santa Lucia e le corsie per i mezzi pubblici nelle nuove aree pedonali. L'importanza è che la strada verso la mobilità sostenibile è tracciata, adesso c'è un intenso lavoro che dura i prossimi quattro mesi, invitiamo tutti i cittadini delle aree interessate per avere informazioni, guardare sul sito del comune e lì scoprire se si è o meno all'interno della zona traffico limitato. Parte dunque una fase attuativa con interventi integrati che vanno nella direzione di una politica sempre più orientata alla mobilità sostenibile. Una strada percorsa che ci viene chiesta da Bruxelles perché in questo modo si potranno ottenere anche più finanziamenti pubblici come l'abbiamo avuto con le smart cities e il piano città, quindi credo che sia un passaggio importante che investe quartieri diversi, dalla Pignasecca ai quartieri spagnoli, la pedonalizzazione che aumenta sul lungomare perché si va da via Posilli, Posino al Molosiglio, quindi veramente è uno scenario straordinario per il turismo e per le attività economiche commerciali della nostra città.